Allora ospiti della strana copia di Radio Bruno sono Sandro e Steve, oggi ospiti di Censio... Uh, che bello, che bello che abbiamo Sandro e Steve, che meraviglia! Ma non è sempre così, incoraggiamoli perché loro... Si, incoraggiamoli se uscite perché no! L'Italia in bollettatura, Sandro e Steve! Vai, vai, vai! L'Italia in bollettatura... Sì? E' sufficiente, è sufficiente, ecco... Andiamo avanti con il programma! No! Non sai se piange o ride... Dai in alto c'è chi spende anche per te... La mia vita ogni giorno è un'avventura... Ragazzi, sia chiaro i 20 euro per la pizza? Per piacere, dai! Non vediamo! Ma non ce ne abbiamo! Ma siamo in bollettatura anche noi! Ma abbiamo sentito in profondo, hai capito? Guarda, guarda, a limite... No, a limite io gli faccio leggere la cazienda del cuore! Hai dei soldi! No, c'ho questi, guarda! Casualmente c'ho questi da passo a passo! Ragazzi, con questi... Spazzatevi la bocca! Ha, ha, ha! Ce ne è una testa, va! Una testa è troppo buone, ragazzi! Non c'è niente da ridere! Siamo in bollettatura! Ragazzi, stai! Puoi fare il figo! Puoi fare il re! Ma intanto... Sordi in ciasca non ce n'è! Oh, Stiff, quanti soldi hai? Io c'ho un nello! Te quanti soldi? Ho 20 centesimi! E allora... Ti va che andiamo a vedere mangiare la pizza? Dai, diamolo! Dai, dai, dai! Magari si sente anche il profondo!